L'agriturismo che si fa gourmet conquista la stella della guida rossa, un successo in realtà radicato da anni in un luogo magico, quello della bassa valtellina, a poche centinaia di metri dal versante retico e da quello oropico che introducono una terra meravigliosa. Gianni Tarabini è l'artefice di questa scommessa. Chef, un'alta identità territoriale in cucina? La Fiorida sta diventando istituzione e la vedo come testimonial di un territorio, la Valtellina dove è situata, testimonia di questi prodotti e anche testimonia delle persone che ci lavorano dentro questi prodotti. I risultati che abbiamo ottenuto con la cucina, con i prodotti a metro zero, con nostra stalla, con il nostro casificio, con i nostri orti e con le persone che ci lavorano dietro sono stati secondo me eccezionali. I prodotti che noi riusciamo a produrre noi o tipo i prodotti che ci dà la natura vengono presi dai piccoli produttori oppure raccoglitori, specialmente pensionati, funghi, castani, mirtilli e quindi siamo anche, secondo me, un traunio al sistema economico locale. La chiave del successo è stato anche portare le cose semplici, le cose della casa contadina, diciamo, proprio anche i ritmi, perché è il tempo che ti dà il clima e la persona che c'è dietro che ti darà questi prodotti. Quindi riuscire a portare questi prodotti in chiave gourmet seguendo proprio questa filosofia che è una filosofia che c'era in tutte le case fino a 40 anni fa. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso questi prodotti con le tecniche di oggi, la creatività di tutto lo staff, andiamo a rielaborarli sempre guardando un occhio al benessere perché diciamo che siamo golosi di salute e quindi è tutto un cerchio che si richiude, non spreco, benessere sia animale perché è importante anche quello perché dal benessere animale verranno dei prodotti che sono proprio a dire più di qualità. Secondo me è molto importante la sostenibilità, sì, farci adattraino, però non dimentichiamoci certi della qualità di vita delle persone. Il futuro della mia cucina spero che sia ancora piatti più basici perché è un po' il concetto di poche cose nel piatto, poche cose di qualità, di forte gusto e carattere come un po' siamo noi montanari.